Buongiorno a tutti sono Walter Pavin, sono titolare del Green Village, un garden center a Cittadella in provincia di Padova. La nostra realtà parte nel lontano 1999 e con il trascorrere degli anni abbiamo ingrandito sempre di più la nostra azienda fino ad arrivare attualmente a una superficie di circa 10.000 metri quadrati. Trattiamo prodotti come vedete qui siamo nelle serre quindi piante, piante di tutti i tipi e nello store attaccato alle serre abbiamo vari reparti tra cui il reparto pet quindi tutto quello che serve per i nostri amici a quattro zampe abbiamo tanti un reparto molto fornito di decorazione per la casa abbiamo i fiori artificiali abbiamo candele abbiamo tutto quello che serve per decorare e impreziosire la casa. Qui nelle serre abbiamo come potete immaginare parecchi problemi per quanto riguarda la pulizia soprattutto del pavimento perché a ogni piccola movimentazione creiamo dello sporco. Abbiamo trovato un validissimo supporto adoperando le lavapavimenti della dita Eureka che è qui vicino a noi e ci troviamo benissimo perché puliamo molto velocemente tutte le superfici ma soprattutto creiamo un ambiente come dire sicuro perché purtroppo le piante hanno bisogno di acqua e qualche pozzetta d'acqua si può stare sempre ma con i mezzi il mezzo che è quella lavapavimenti molto performante riusciamo a risolvere queste problematiche. Quindi con una realtà così importante soprattutto nelle superfici abbiamo pensato anche di adottarci di una spazzatrice che ci serve e ci agevola tantissimo nella pulizia soprattutto dei parcheggi, i parcheggi sia interrati che in superficie perché si accumula dello sporco e troviamo proprio una soluzione ideale in brevissimo tempo riusciamo a pulire tutte le aree esterne. Avendo una alta calpestabilità soprattutto in periodi come la primavera e soprattutto in Natale abbiamo problemi appunto di movimentazione di polvere data dal calpestio che viene generato e abbiamo risolto il problema appunto usando la lavapavimenti perché toglie veramente la polvere con la dinamicità della lavare e poi asciugare il pavimento per cui mantiene i nostri prodotti che sono anche talvolta particolari belli puliti e tutto l'ambiente ne trae vantaggio. Ecco appunto noi essendo green abbiamo scelto queste macchine che adottano il sistema ecosystem cioè un sistema di riciclo d'acqua che è molto importante per preservare l'acqua che sapete bene è un bene inestimabile e un bene che purtroppo si sta esaurendo per cui con questo sistema ideato dall'Eureka in maniera geniale riusciamo a lavare superfici di oltre 5.000 metri con un pieno che è veramente irrisorio insomma. Un'altra importantissima caratteristica di queste macchine è da scoprire la maneggevolezza che riescono a dare e soprattutto qua nelle serre quando abbiamo continui bisogni di pulizia tempestiva al pavimento ma gli spazi sono ahimè molto ristretti troviamo fantastico la maneggevolezza che hanno questi questi mezzi che stiamo adottando sia la lavapavimenti lavasciugapavimenti e sia la spazzatrice. Un'altra caratteristica importante di queste macchine è la manutenzione la manutenzione che serve solo quella ordinaria e per il resto per nostra esperienza che la operiamo da più di cinque anni non abbiamo avuto nessunissimo problema con le altre parti e vorrei aggiungere ancora di più un plauso a questa macchina perché come diciamo operatività quindi il carico e lo scarico dei prodotti è facilissimo rapidissimo e quindi anche qui si hanno risparmi notevoli di tempo. Un caroroso saluto a tutti voi e un grande invito a venirci a trovare per constatare con i vostri occhi il grado di pulizia che riusciamo a ottenere anche con grandi spazi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.